nome e cognome? Francesco e Roberto Pozio. Perché tu questi due, Francesco e Roberto, sei uno e dieci? Sì, perché è uno solo il nome, senza virgola, quindi se io dico solo Francesco, solo Roberto, è come se il nome è a metà. Ma ti chiamano? Mi chiamano tutti Roberto. Ah, Francesco no? No, Francesco no. Una scelta tua o... No, no, di mio padre, perché Francesco è il nome di suo padre. Senti, cosa ne pensi del mondo del web? Cosa ne penso? Secondo me è servito il web, anche se è vero che ci sono molte cose che sono sbagliate, però secondo me è all'evoluzione, è anche un mondo all'avanguardia questo web. Il suo saldone d'Achille è? Il mio saldone d'Achille è la testa al dato, sono troppo testato. Però? Però in alcune situazioni, non sempre, quando so di avere ragione e quindi... Perché altrimenti c'è il nome? Altrimenti sono... Gente, sono... Vorresti fare un attore comico? No. Perché stai facendo questo comino? Ah, lo so venendo perché mi hanno detto che c'era questo casting e quindi sono venuto tramite una persona che conosco. Vabbè, ti dai i tuoi profili destra, se no... Stratetto. Che drago!